Hanno fatto razzia di pregiate selle all'Equestrian Center di San Zeno mettendo a segno un colpo dal valore di circa 50.000 euro, il tutto senza nemmeno forzare una serratura, insomma con una tecnica da professionisti del crimine. È successo sabato sera attorno alle 22 mentre era in corso una cena. I ladri in pochi minuti sono riusciti a visitare le auto trafugando le selle che erano custodite nelle auto dei proprietari arrivati in città da tutta Italia per partecipare ad un corso di monta spagnola, un maxifurto da decine di migliaia di euro. Ogni pezzo portato via, circa una decina, ha infatti un valore di almeno 5.000 euro. Si tratta di pezzi molto grandi, impreziositi da decorazioni, ricami e borchie anche d'argento. I ladri hanno agito senza compiere frazioni utilizzando molto probabilmente un telecomando pirata che ha aperto le serrature con un clic sulla vicenda adesso sta indagando la polizia di Stato.